Iniziamo. Che dici? Sì? Va bene. Allora, grazie a tutti per essere qui. È gusto aver accettato il nostro invito virtuale, purtroppo. Questa è la modalità online di serie seminari che avevano una dimensione molto più conviviale, per cui non continuiamo a ripetere, speriamo di avere anche quella dimensione convivialità che le tavole ovali avevano come piccola tradizione. Io sono qui solamente per dirigere il traffico, in realtà, ricordarvi alcune modalità di partecipazione che mi sembra tutti diligentemente abbiamo già capito, cioè spegnere le telecamere, spegnere il microfono, e Bianca dopo la sua presentazione risponderà alle domande che potete fare in chat, come sappiamo. Io aggiungo un mio piccolo ringraziamento personale, non solo per aver accettato l'invito, ma anche per essersi cimentata in qualcosa di nuovo, come ci ha detto, anche per affrontare un tema che si lega bene anche al progetto europeo che aspettiamo con Essence, che indaga appunto la dimensione, lo studio e le forme degli spazi pubblici nell'Europa del Rinascimento. per cui la ringrazio anche per aver trovato, ma l'abbiamo anche invitata apposta, un tema che si lega bene a questo progetto che è sede da noi. Ecco, senza ulteriori indugi, io mi taccio e passo la parola ad Enrico, che ti presenterà con più. Grazie Massimo e grazie davvero a Bianca per l'invito, è da un anno che la tampino per averla presente al nostro ciclo di seminari a Tavolo Valle di Storia Moderna, sono particolarmente felice di averla tra i nostri ospiti, anche in ragione di una conoscenza ormai non dico antica, ma che ha il suo tempo, partecipai a un panel a Lisbona curato da Bianca sull'identità civiche e le scienze antiquarie nel Rinascimento, che credo fu uno dei momenti più proficui dell'incontro tra la storiografia dell'Italia meridionale e quella dell'Italia settentrionale, che ha dato poi luogo a gemmazioni di un suo grande progetto di cui parlerò tra poco. Bianca è professore di Storia dell'Arte Moderna all'Università degli Studi Federico II di Napoli, anche se i suoi interessi di ricerca e le sue competenze storiografiche vanno ben al di là della mera conoscenza artistica, è un esperto di storia dell'architettura, di committenza privata e a questo punto direi anche pubblica nel Regno di Napoli e non solo. Ha pubblicato nel 2007 un'importantissima monografia su architettura e committenza nella Napoli del Quattrocento e credo anche che sia in procinto di uscire un secondo importante libro che dovrebbe raccogliere un'esperienza importantissima che è quella dell'IRC che lei ha guidato, Istantarsi, che è un acronimo, e qui prendo fiato, per Historical Memory, Antiquarian Culture, Artistic Patronage, Social Identities in the Centers of Southern Italy between the Medieval and Early Modern Period. Mi fa piacere tra l'altro mostrarvi la piattaforma che con Istantarsi hanno creato nel gruppo di ricerca di Napoli, dovreste vederlo in diretta, datemi un cenno se lo vedete o meno. La piattaforma, oltre a raccogliere tutte le informazioni relative a questo enorme progetto di ricerca sul recupero antiquario nella storiografia e nella cultura più in generale del Regno di Napoli tra XV e XVI secolo è anche provvisto di un importante database che vi mostro rapidamente per chi già non lo conoscesse, in cui è possibile fare delle ricerche molto articulate sia sulla cultura materiale delle scienze antiquarie nelle città e nei centri minori del Regno di Napoli sia poi su tutta una serie di gemmazioni di questi tempi di ricerca che riguardano ad esempio i disegni, gli edifici, la cultura materiale come vi ho detto, i manoscritti, le opere d'arte e delle singole schede sulle città del Regno. Questo forse uno degli obiettivi principali di istantarsi, rompere rispetto a una tradizione positivistica, ottocentesca, secondo cui nel Regno era mancata una grande cultura di recupero antiquario, di risveglio umanistico rispetto alle ascendenze baronali medievali del Regno e che ormai possiamo dire è stato del tutto sdoganato dal progetto di Bianca che a quanto mi ha detto poco fa dovrebbe anche essere steso grazie a un print alle due principali isole del Regno stesso. Io mi taccio, le do la parola per il suo intervento, luoghi identitari e spazi del conflitto nel Regno di Napoli tra tardo medioevo e prima età moderna e la ringrazio ancora per la sua presenza. Grazie a voi, grazie ad Enrico e Massimo per avermi invitato e anche stimolato in questo periodo così di lontananza a comunque riflettere su temi nuovi all'interno del punto dell'ambito che vi descriveva Enrico. Il territorio dell'Italia meridionale riacchiude importanti testimonianze storiche artistiche che risalgono al medioevo e alla prima età moderna, che sono state oscurate da opere di epoche successive oppure disperse in contesti urbani non sempre preservati al meglio. Le poche opere note in realtà poi sono state spesso fraintese nella loro natura specifica e considerate come manifestazioni periferiche dell'arte e dell'architettura rinascimentale che aveva centri altrove. Se nuovi orientamenti della storia dell'arte hanno smantellato progressivamente l'immagine monolitica del Rinascimento come esclusivamente Fiorentino e Romano, dall'altro lato i recenti studi sulle città e sull'elite dell'Italia meridionale hanno aperto la strada verso una considerazione nuova e bilanciata dell'arte e dell'architettura nel regno tra 400 e 500, riconoscendo tra l'altro in queste forme artistiche dei documenti storici talvolta unici di fenomeni sociali più complessi come la mobilità, i spazi del potere, i conflitti e all'interno di una nuova visione del regno che sta emergendo è dunque possibile abbandonare anche la capitale e la committenza monarchica e scendere nel dettaglio delle città meridionali guardando gli spazi dell'elite, un'elite eterogenea attiva su più fronti, da quello politico a quello letterario, attiva nella preservazione dei monumenti antichi e nella creazione di nuove opere all'antica sia di arte che di architettura commissionate da singoli individui, da famiglie ma anche da gruppi più o meno forti di cittadini. Già in altri contesti ho avuto modo di dimostrare come la natura specifica della cultura meridionale tra 400 e 500, definendola come un altro rinascimento, ovvero un tipo di cultura che era pienamente al corrente delle nuove idee che stavano emergendo in altre parti d'Italia, ma allo stesso tempo autonome e alternativa nei modi in cui tale idee erano sviluppate, in cui più che limitazione degli ordini classici altri temi sembrano aver avuto la priorità, come l'impatto della cospicua presenza di antichità, la forza della tradizione medievale e locale, l'esistenza di una fitta rete di centri urbani che condividevano la condizione di essere parte di uno stesso regno, nonché infine anche una certa dimensione internazionale enfatizzata da secoli di dominio straniero. Casi come Palazzo Crapo o Palazzo Orsini a Nola che vedete qui o la cattedrale di Venosa, ma anche altri casi meno i calatanti, come mostrano come nel regno le nuove opere venivano realizzate senza mai rinunciare al collegamento materiale e diretto con il passato, attraverso l'uso di materiali riconosciuti come autenticamente antichi, allestiti in raffinati progetti che molto spesso, come nel Palazzo Orsini che abbiamo visto, erano ispirati da nuovi principi compositivi ispirati all'antico. Questo era per farvi vedere questa diapositiva, due palazzi contemporanei dove quello a sinistra con ordini architettonici, un palazzo perfettamente tuscanico trapiantato a capo a inizio 500 e un altro praticamente coevo che ci racconta come in realtà il linguaggio degli ordini era pienamente conosciuto a capo o come nel resto dell'Italia meridionale, ma non sempre, anzi quasi mai, corrispondeva all'opzione migliore per autorappresentarsi. In questo intervento affronterò questo problema ampio guardando il rapporto tra luoghi pubblici e antichità, cercando in particolare di osservare i modi diversi con cui tra Medioevo e Prima Età moderna l'antichità si interseca con luoghi identitari come piazze, campanili, logge, porte urbiche e osservando in particolare come sovrapponendosi a luoghi che in realtà erano già di per sé identitari, l'antichità non solo accrescevano il prestigio legittimandone l'uso per altri fini come l'amministrazione politica e giuridica delle città, ma attraverso progetti strategici enfatizzavano il concetto di appartenenza e contribuivano alla costruzione dell'identità civica. Lo farò da due punti di vista, da un lato nel contesto di un'espressione di un potere civico di concertazione e condivisione e dall'altro guardando come le stesse modalità potessero assumere un carattere di segno opposto come espressione di conflitti. Vorrei cominciare da un livello più semplice e funzionale dell'antichità, riallestite nelle piazze legate a funzioni giuridiche come luogo del giudizio, vero la gogna e anche commerciali, per esempio come quello di misurare le merci. Dagli allestimenti 4-5 centeschi, probabilmente creati a partire da precedenti medievali, abbiamo un unico caso supersite che è quello che vedete qui a Bari, a piazza mercantile. Si tratta di un leone antico, rilavorato nel Medioevo, recante un cartiglio sul collare con l'iscrizione Custus Justitiae. Tutto l'insieme è posto su una crepedine circolare appoggiato a una colonna di marmo proconesio, sormontato da una palla di cannone. Tale sistemazione che derivava probabilmente da una già esistente fu mantenuta e anzi riattivata nei lavori di rinnovamento urbani promossi da Isabella d'Aragona e sua figlia Bonasforza nella prima metà del Cinquecento, quando la piazza fu inglobata nel sistema di mura cinquecentesche e trasformata in un nodo centrale dell'attività politica, economica e giudiziaria, dove insistevano i nuovi edifici del seggio, della dogana e dell'arsenale. Alle stimenti simili o anche più elaborati sono andati perduti, ma sono noti attraverso fonti letterarie e documentarie. Il modesto valore simbolico e giuridico aveva forse il gruppo scultorio formato da un leone antico poggiato a una colonna che la cronaca cinquecentesca di Achille Cappellano descrive nella piazza pubblica di Venosa, presso il castello di Pirro del Balzo, o anche la colonna Iudicum attestata dai documenti della cancelleria capuana, per essere nell'attuale piazza giudici a Capua, c'è nel sito dove a fine Cinquecento sarebbe stato poi eretto palazzo giudici. A Capua come a Venosa presso questi elementi antichi venivano affissi bandi pubblici, come il bando relativo ai consumi civici, emanato dal Capitano Ducale, dal Baiulo, a Venosa nel 1456, che vedete sulla sinistra, che appunto fu esposto in pubblica a Maiori Platea, secondo una pratica chiaramente attestata anche in altre città della penisola, Venezia, Udine, Roma. Dal De Nola dell'umanista c'è l'opera coreografica, antiquaria, molto all'avanguardia, composta dall'umanista nolano Ambrogio Leone. Sappiamo che a Nola, dinanzi alla cattedrale, era posta una monumentale architrave, utilizzata come gogna dove esporre i colpevoli alla pubblica umiliazione e anche una base antica utilizzata per le misure. Mentre nella piazza della cattedrale di Teggiano, le misure pubbliche erano misurate su un marmo antico accanto a una statua di un ercole inginocchiata su una base imperiale. Questi elementi singoli, eterni, esposti al centro delle piazze, facevano parte della quotidianità degli abitanti e accompagnavano quelle funzioni e comportamenti che venivano regolamentati negli statuti cittadini. Ma esistono livelli di maggiore complessità in cui l'antico interseca in maniera più complessa e stratificata la vita amministrativa e giuridica dell'Università Ates, investendo spazi di azione politica e definendo il senso di appartenenza alla città o a un suo gruppo più ristretto. Si tratta di un fenomeno complesso e sfuggente che va visto nel più ampio contesto sociopolitico del Regno, dove non c'erano palazzi di città, torri civiche o edifici deputati in maniera esclusiva all'amministrazione della giustizia e alla gestione del potere, nei palazzi per ospitare gli ufficiali reggi. I pochi esempi che esistono si trovano in Abruzzo, che guardava al centro Italia, oppure a Benevento, che vediamo qui, è in clave però papale nel Regno. Questa stenza è stata a lungo letta come sintomo dell'oppressione monarchica e come riflesso di una contrapposizione tra un presunto desiderio innato di libertà delle città e un'altrettanto presunta tendenza innata all'oppressione monarchica, una visione che è stata messa in discussione dalla storiografia più recente, ultimamente su questo argomento ha scritto Pierluigi Terenzi, con cui abbiamo anche lavorato nel progetto, che ha messo in evidenza la natura non necessariamente conflittuale di quei rapporti, riportando alla luce la vitalità politica delle città meridionali, dove esistevano percorsi di sviluppo alternativi alla via delle libertà tra virgolette tipicamente attribuita ai centri comunali. In tale contesto l'amministrazione e gestione della vita dell'università ATES, piuttosto che in luoghi formalizzati e deputati a un'unica funzione avveniva in luoghi misti. L'esempio immediato sono le logge dei seggi, ma nel discorso, come vedremo, entrano anche altri spazi per lo più semi aperti, prospicenti le piazze, le strade, come portici di chiese o campanili o anche porte urbiche, che attraverso un uso strategico dell'antico accrescevano il ruolo, come ho già detto, identitario intrinseco alla loro primitiva funzione, condotandoli come luoghi privilegiati della vita politica associativa della città e della definizione della città stessa. Come è noto, gli edifici dei seggi erano luoghi che corrispondevano all'omonima istituzione, diffusa su tutto il territorio, soprattutto a partire dal 200, dove si riunivano i gruppi più o meno estesi di cittadini, per lo più appartenenti all'elite nobiliare e più raramente assemblee di cittadini ordinari, i cosiddetti seggi del popolo, invece più raramente avevano un edificio autonomo, ma più frequentemente si riunivano in chiese, conventi o semplicemente in piazza. E prendendo per assunta una certa fluidità di spazi e dei loro usi, questi erano luoghi di discussione e decisione dell'elite, talvolta con valore legale, talvolta no, che si configuravano come teatri anche di rituali civici, giuridici, ma anche funerari. Dal punto di vista architettonico i seggi avevano per la più una forma di edifici autonomi, generalmente costituiti da una o due logge a pianta quadrata, coperte da volte. In alcuni casi prendevano invece la forma di semplici archi passanti, come questi tre seggi a capua, ma ne abbiamo anche altri. Ancora più dei sedili su cui si sedevano i membri del seggio, era l'arco l'elemento determinante distintivo, che conferiva al contempo una olicità trionfale a questi spazi, ma sentiva anche un senso dell'imes, spesso rafforzato dalla presenza di una cancellata, un senso tra un dentro e un fuori, tra chi poteva sedersi sui sedili, appunto a volte in pietra, a volte scanni di legno, a discutere e prendere decisioni, se c'entra dunque l'appartenenza a un gruppo. Attraverso gli studi, appunto all'interno del progetto di Fulvio Lenzo, sappiamo che l'antico ebbe un ruolo fondamentale nel configurare lo spazio dei seggi, come spazi della vita politica e sociale delle città meridionali, ma anche come spazi della memoria cittadina, dove attraverso l'esposizione strategica di pezzi antichi e medievali si arrivavano poi, come vedremo, a configurare delle piccole collezioni civiche. Un'analoga sistematica concentrazione di antichità che vedremo nei seggi la troviamo anche nei campanili delle città meridionali. Il ruolo dei campanili nelle cattedrali o anche di altre chiesi fa recuperato in questo ragionamento sull'uso degli spazi pubblici di rapporto con l'antico e forme associative nella vita politica amministrativa delle università. Seppur collegati alla chiesa i campanili avevano, come spesso succede, una funzione e un valore civico quasi autonomo nel contesto cittadino. Le loro campane, come noto, non ricordavano solo le funzioni religiose e i funerali, ma chiamavano raccolta ai cittadini, marcatori che svettavano sul paesaggio urbano circostante con la loro altezza in tutte le città, non solo del Mezzogiorno ma d'Europa, le torri campanarie rendevano riconoscibili la città a distanza, divenendo l'immagine di un'appartenenza alla patria. Ce lo racconta con accenti nostalgici l'umanista nolano Ambrogio Leone nel De Nola. Nel rievocare, una volta che rientrava da Nola da un lungo viaggio con il nipote e aveva baciato terra, in quel momento aveva declamato, lui racconta, l'antico proverbio locale, contro coloro che non sopportano o di rimanere o di partire per un luogo più lontano del luogo da cui possono guardare il campanile. Visti da lontano i campanili meridionali erano come altrove un'immagine della patria, ma visti da vicino i campanili meridionali assumono una forma specifica, configurandosi come luoghi sintetici della memoria cittadina, attraverso una cospicua concentrazione di antichità simile a quella dei seggi, rafforzando ulteriormente, una concentrazione che rafforza ulteriormente il loro ruolo di edifici autonomi, di luogo pubblico che in virtù di questa particolare configurazione probabilmente svolge un ruolo molto preciso nella vita pubblica delle università. Tale discorso assume forse una giusta complessità se riflettiamo sul fatto che accanto a campanili che avevano una forma più ordinaria, pianta quadrata piena, nelle città meridionali esiste un numero cospicuo di campanili che poggiano su un arco passante, quello che vediamo qui è il campanile della cattedrale di Caserta Vecchia. L'arco alla base dei campanili creava un accesso monumentale a piazze come appunto nella Caserta Vecchia dove la base del campanile di età fedeliciana presenta un arco coperto da una volta a botte cassettonata e decorato con un rilievo antico con armi e panoplie che conferisce alla porta un carattere proprio trionfale. A Esernia l'arco del campanile ricostruito dopo il terremoto del 1456, decorato con statue antiche di togati, posti quasi a guardia negli angoli, era l'epilogo di un percorso monumentale che portava alla piazza della cattedrale. Oltre a offrire un monumentale ingresso, la forma dell'arco passante accompagnata dalla cospicua quantità di antichità che spesso si ricostruisce attraverso sillogepi grafico e fonti letterarie, non sempre sono presenti più visibili, faceva sì che i campanili funzionassero molto probabilmente come luoghi di riunione, è quello che emerge dai documenti di Sorrento dove nel 400 i parlamenti cittadini si riunivano al suono della campana sotto il campanile della cattedrale, il cui livello, quindi non solo all'interno della cattedrale stessa, ma proprio le riunioni del Parlamento avevano luogo sotto il campanile, il cui livello inferiore, che era un po' diverso da come lo vediamo ora, era concepito come un quadriportico, quindi un arco su quattro fronti, aperto su quattro fronti collegato tra l'altro al portico dell'Arcive Scovado, uno spazio reso prominente dalla concentrazione di antichità che vi erano allestite, alcune delle quali vedete qui un disegno francese nell'originale ora al museo, di cui alcune altrimenti evocative della gloriosa storia locale. Ci sembra legittimo almeno supporre che tale consuetudine fosse estesa anche in altre città del Regno con una situazione analoga. Una caratteristica peculiare che non posso escludere che sia esistita anche altrove, per esempio un campanile spagnolo sempre ad arco, ma che nel Regno assume una sistematicità che è di per sé significativa. A Roma per esempio i campanili erano per lo più a pianta quadrata e non avevano un grande rimpiego di spoglia se non architettonici. Non siamo in grado ancora di capire perché in alcuni casi fosse fatto in un modo o in un altro, se dipendesse dalla topografia, dall'ordinamento o non lo sappiamo ancora e ci piacerebbe capirlo. Di fatto la presenza di un fornice ad arco passante unita alle antichità sembrano far trascendere i campanili dalla posizione specifica di Torre Campanaria e dunque facendoli rientrare tra quei luoghi misti e spazi semi aperti che ospitavano momenti della vita politica e amministrativa della città, in una vera intermittenza con gli edifici dei seggi, ancora più stringente se pensiamo, come abbiamo visto, che alcuni seggi erano concepiti ad arco passante e altri erano invece dotati di Torre Campanaria. Sia nei seggi che nei campanili l'uso dell'antico entra in gioco a diversi livelli, in entrambi i casi esiste un primo livello di questo dialogo con il passato che si esplicava nel massiccio ricorso al rimpiego di spoglia. Colonne, capitelli e talvolta anche semplici blocchi di marmo, vengono inseriti per trasmettere un'aurea di prestigio e magnificenza, grazie al loro valore architettonico che veniva magnificato nel tentativo di proporre anche le logiche compositive dell'architettura antica. Questo avviene ad esempio qui nel campanile romanico della Pietrasanta a Napoli, dove si riconosce il tentativo di ricostruire con pezzi diversi l'integrità di un ordine architettonico completo o nel seggio di San Matteo a Sessa, dove abbiamo una volta a crociera impostata all'antica su colonne angolari. Ma esiste un livello più complesso di alterazione tra luoghi pubblici e antichità che permetteva a questa di connotarsi ancora di più in senso identitario, quindi non semplicemente in funzioni amministrative e politiche, ma con un senso più ampio. Come abbiamo accennato, sia i campanili che i seggi diventano luoghi privilegiati per mettere in scena le antiche radici locali, attraverso l'esposizione di ritratti, rilievi e iscrizioni scelti non per la loro bellezza, ma per essere documenti autentici in grado di evocare, pur nella frammentarietà e certificare le origini antiche della magnificenza contemporanea. L'origine locale e lontana del tempo era un requisito indispensabile per la legittimazione del ruolo preminente per le città come per le famiglie e strumentalmente ostentata per ribadire le regioni della propria egemonia o dei propri privilegi. Per questo, fra le molte antichità esposte, un rilievo particolare lo avevano spesso le epigrafi che al prestigio emanante dal frammento antico aggiungevano anche il vantaggio di offrire un testo scritto che poteva documentare l'importanza della città sin da un passato più remoto. Il richiamo al passato risultava ancora più efficace accostando frammenti diversi come ad Acerenza, questo dove vediamo la base del Campanile è ricostruita, dove l'iscrizione dell'ordo Acheruntinus che vediamo sulla destra, molto rovinata, era posta in basso per essere letta dai cittadini e posta in fianco a immagini di Togati, ce ne sono anche altri sull'altro lato, che dunque erano le immagini di coloro che sarebbero appartenuti a quell'ordo. Una cosa analoga avveniva anche a Tegiano e in altre città. Nei seggi erano esposte sistematicamente iscrizioni che richiamavano le città antiche su cui insistevano i centri contemporanei, anche con qualche strumentale errore come nel seggio di Cagliazzo che si appropriò di un'iscrizione relativa a Calazia che invece era altrove. Oppure anche pezzi altamente evocativi della storia cittadina, singoli pezzi come la tessa di Partenope che in origine era esposta all'esterno del seggio di Capuana. Non di rado su seggi e campanili venivano anche affisse iscrizioni medievale e contemporanee che ricordavano terremoti, morti di re, passaggi politici come quello dalla ritrovata demanialità dopo un periodo baronale. Ragionando sul concetto di monumento a documento possiamo riconoscere quasi un modo paratattico di raccogliere documenti materiali che ricorda quelli un po' dei libri di Iulium che venivano compilati mettendo insieme documenti di epoche diverse a dimostrare il proprio peso politico contemporaneo ed erano spesso accompagnati da elementi antiquari come le immagini dei fondatori mitici, come in questo caso molto bello del Capis che è la lettera iniziale del libro di privilegi di Capua, appunto l'eroe omerico ritenuto il fondatore di Capua, o questo interessante caso del codice Pava Grossa che vi ho fatto già vedere prima, il libro di privilegi di Benevento dove in alto a sinistra vediamo lo stemma cittadino con una sorta di immagine del cinghiale caledonio che richiamava la fondazione da parte di Omede, appunto un'immagine evocata anche da questo rilevo nel campanile che era riconosciuto appunto come una prova autentica di questa fondazione mitica. I campanili medievali chiaramente continuavano a essere utilizzati nel 400 e la loro forma resta ancora valida, anzi ricercata nel 400 come dimostra la torre campanaria di Larino in Molise con un arco voltato a crociera costellato di spoglia provenienti da un unico antico monumento a pianza circolare. Un campanile commissionato insieme dal vescovo, dai feudatari e con la partecipazione dell'universitas, tutti e tre apposero i loro stemmi sulla facciata verso la città a testimoniare la natura corale dell'opera e a soggellare la natura civica dell'edificio che costruiva anche l'archivio cittadino. È proprio il valore giuridico documentario che portava a fare ricostruire i campanili in forme spesso analoghe a quelle originarie. Dopo i crolli a cui potevano essere soggetti spesso durante i terremoti, soprattutto a causa della loro notevole altezza. La loro mancata ricostruzione in tempi brevi era considerata quasi un oltraggio alla città, come dimostra il caso dell'arcivescovo di Ariano Irpino donato dell'Aurentis, privato dall'universitas del titolo vescovile, per non aver ricostruito in tempi brevi il campanile della cattedrale che era crollato durante un terremoto del Cinquecento, uno dei tanti che subì la città. Non è facile stabilire un rapporto di precedenza temporale tra questi luoghi, mentre dall'altro lato possiamo osservare che nei campanili, anche nel Quattrocento, il modo di dialogare con l'antico rimane sempre in qualche forma paratattico, anche se con esiti raffinati, mentre tra Quattro e Cinquecento nei seggi ritroviamo un livello di consapevolezza ulteriore e di strategia espositiva più complessa in cui autorità giuridica e senso di appartenenza vengono espresse attraverso la creazione di piccole collezioni altamente evocative oppure allestimenti che hanno la profondità di un racconto storico, come quelle storie cittadine che partendo da singoli documenti arrivano a delineare la storia di una famiglia di una città e che spesso erano compilate dagli stessi membri dell'elite che si andavano a sedere in queste loggie. L'arco di ingresso del saggio dei cavalieri a capo mostra due iscrizioni funerarie, una latina e una greca, che marcando la soglia rivocavano il doppio passato antico della città che rivendicava, come ho detto, la fondazione da parte di Capis e anche la cui gloria romana era testimoniata da resti di monumenti importanti ancora visibili come i resti monumentali dell'anfiteatro le cui revine potevano ammirarsi a pochi chilometri nel sito dell'antica Capua. Il collegamento materiale con la città antica trovava corpo all'interno del seggio dove i membri dell'elite capuana si trovavano immersi in uno spazio abitato da antichi cives capuani materializzati nelle stelle funerarie con personaggi togati rappresentati in piedi a figura intera, singolarmente o in gruppo, secondo la tipologia funeraria locale specifica dell'area capuana e che dai siti di rinvenimento erano stati sistematicamente portati e allestiti nello spazio semiaperto dell'arco passante del seggio. Questi antichi cittadini ritratti in abiti ufficiali e identificati con i loro nomi erano più reali di qualsiasi illustre antenato mitico eppur non responsabili di imprese incredibili rappresentavano i veri antenati di coloro che abitavano Capua tra 400 e 500 e in coro sorvegliavano e ispiravano le decisioni che pur prese da un gruppo ristretto potevano servire a regolare la vita dell'intera città. In una città come Capua che come hanno dimostrato ad esempio Francesco Senatore o Pierluigi Terenzi era animata da un'elità ampia e terogenea aperta e entrisa di cultura antiquaria e umanistica che amava chiamare i propri figli con nomi antichi, l'uso dell'antico diventa l'espressione di un'appartenenza a una delle università meridionali più importanti, i cui membri condividevano lo status eccezionale di essere cittadini di tutte le città del regno e al contempo della condivisione di un progetto di costruzione di una stabilità politica più ampia. A stessa Aurunca la collezione ospitata nel saggio di San Matteo è un racconto per oggetti della storia locale che si arricchisce di significati man mano che i nuovi pezzi venivano aggiunti a quelli già presenti, le iscrizioni imperiali che celebravano Adriano e Traiano che vedete in basso a destra che erano esposte all'esterno dell'arco fin già almeno dal 400, furono affiancate nel 1536 da due nuove iscrizioni composte dall'umanista Agostino Nifo per celebrare il passaggio di Carlo V e infine nel 1549 da una statua antica che raffigurava il cives sessano Jacopo del Gaudio, una statua datata a 1272, un cives noto per essere antiangioino e dunque filo imperiale che fu appositamente trasferita da un paese vicino. Quella che si delinea è una storia che narra l'importanza ininterrotta della città di Sessa attraverso i grandi imperi, prima quello romano, poi quello svevo di Federico II e infine quello spagnolo di Carlo V, ribadendo indirettamente la fedeltà contemporanea di Sessa al nuovo potere spagnolo. Questo senso di appartenenza e di identità realizzata in luoghi pubblici attraverso l'uso strategico dell'antico poteva essere espresso anche in allestimenti che travalicando i confini di un seggio e di un campanile si proiettavano su una scala urbana, arrivando a occupare lo spazio più ampio di una piazza. Questo è il caso della piazza del Duomo di Nola, sul perimetro di questo spazio che era stato rinnovato a fine Quattrocento dal conte Orsorsini furono disposte antiche state funerarie di togati, posti su piedistalli di provenienza diversa che recavano iscrizioni che commemoravano eminenti personaggi locali responsabili di atti di gesti di vergetismo o che celebravano la Vittoria Augusta. La provenienza eterogenea di tali elementi conferma che tale allestimento non derivò da un singolo ritrovamento archeologico, ma era una ricostruzione moderna, estremamente raffinata, che implicò lo sforzo congiunto di trovare, spostare ed esporre statue su basi al fine di creare una collezione pubblica di ritratti autentici di antichi nolani, da cui, come ci racconta Leone, gli abitanti di Nola rivendicavano una diretta discendenza. Nato probabilmente come un progetto principesco di Orso, negli anni successivi alla fine degli Orsini la città si appropriò e ampliò tale allestimento, facendo un elemento di riconoscimento collettivo. Come vediamo anche da questa foto, ha continuato a funzionare fino a quando non fu dismesso nel 1930. Allargando ulteriormente lo sguardo a volo di uccello, potremmo riconoscere anche nelle mura, in particolare nelle porte urbiche, procedimenti contigui in cui l'uso dell'antico contribuiva a definire il senso dell'imes e dell'appartenenza, di chi stava dentro e chi veniva da fuori, sia esponendo documenti del passato, ma anche attraverso nuove iscrizioni che quasi come se la porta fosse una bocca aperta che parla, invitavano a entrare attraverso, dando voce al fondatore della città, come l'iscrizione che vedete sopra di Tirenus sulla porta di Trani, porta a biscegli e Trani, o facendo parlare la porta stessa, come vediamo sotto. A volte invece il passato poteva assumere un tono intimidatorio, come dimostrebbe il rilievo della gamba di Giovanni di Pipino, esposto come spolia vicino a una porta di Altamura e identificato proprio attraverso lo sistema e le iniziali, a ricordare la lacerazione del corpo del conte nel 1357, in cui le sue membra furono esposte in varie parti della città e sulle mura che lui stesso aveva costruito. Per avviarmi alla conclusione vorrei seguire la pietrificazione delle disecta membra di Giovanni e di Pipino, vedendo come rientrando nelle mura, secondo un'altra prospettiva, il quadro integrato dei diversi lughi pubblici, in cui un'elite coesa elaborava racconti condivisi da mettere in scena attraverso pezzi autenticamente antichi o ispirati all'antico, comincia a mostrare delle crepe in cui si intravedono aspri e volenti scontri tra gruppi e fazioni. Un esempio notevole è il Colosso di Berletta, un caso eccezionale in cui un'antichità non fu appropriata dai nobili, ma dal popolo, una scelta che non può, un allestimento che non può non essere messo in relazione al scontro tra nobili e popolari che lacerò la città e con la concessione da parte di Ferrante nel 1491 di nuovi statuti che assegnavano ai popolari i due terzi del consiglio cittadino. La statua, che è uno dei rari reperti bronze, i giunti quasi intatti dall'antichità, identificata col ritratto dell'imperatore Eraclio, veniva quindi restaurata e issata di fronte al seggio, alla stregua di un trofeo che sanciva una vittoria storica del ceto popolare, che si appropriava dell'antichità più rappresentativa della città. Ma l'esposizione stessa dei pezzi antichi poteva essere essa oggetto a immagine di uno scontro all'interno di uno stesso gruppo, come l'accesa disputa che scoppiò a Capua nel 1589 tra gli eletti del consiglio intorno a un'iscrizione nella quale si citava l'antico legionario Descio Lucio Maggio, esposta nel seggio di Sant'Eligio. L'esposizione dell'epigrafe era stata promossa dall'eletto capuano Marco Antonio Di Maio, il cui nome evidentemente richiamava quello del legionario romano e Di Maio si era impegnato con il consiglio cittadino a pagare non solo lo spostamento dell'epigrafia antica, ma anche la realizzazione di una nuova iscrizione commemorativa a caratteri epigrafici dorati. Questo spregiudicato tentativo di utilizzare un pezzo antico per l'autopromozione di una singola famiglia all'interno dello spazio pubblico del seggio suscitò una reazione talmente violenta da parte degli altri eletti che ne richiedevano la rimozione e che seppur fatta a suon di argomentazioni antiquarie giunse all'orecchio del vicere. Il tentativo di rifiutare l'iscrizione conferma dunque che non poteva esserci spazio per un'espressione così personale in luoghi in cui si riconosceva un gruppo o la città, ma poteva sicuramente esserci come il nostro nei palazzi. Vorrei concludere ragionando su un altro aspetto del rapporto tra luogo pubblico e modalità di espressione di un'appartenenza a un gruppo nell'accezione conflittuale, guardando come le facciate dei palazzi che si affacciavano sugli spazi pubblici delle strade e delle piazze parlavano a chi stava fuori, mutuando pratiche, gesti o manifestazioni artistiche, letterarie effimere che solitamente esprimevano situazioni di conflitto nello spazio pubblico e traducendole in pietra ed esponendole come se fossero a spolia, appunto alla stregua della gamba di Giovanni di Pimpino ad Altamura. Una testimonianza notevole che si può riconoscere in questo rilievo datato al 1430, esposto sulla facciata del monumentale palazzo dei Della Valle, della fazione terramana degli antonellisti che nel fornire un modito involgare alla fazione opposta traduceva in pietra la punizione esemplare della trafolazione della lingua, attestata negli statuti cittadini e probabilmente già oggetto di immagini effimere sui palazzi terramani. In un certo senso più sofisticata è la monumentale intimidazione in dialetto pugliese, resa con caratteri lapidari, perfettamente all'antica, nella facciata del palazzo della famiglia dei saraceno a Giovinazzo, dove la famiglia metteva in guarda il partito avverso e chiunque volesse muocere, il saraceno tengere sempre coce e quanto più lutocchi più tenoce. Si tratta di un eccezionale documento storico, linguistico, artistico che integra le notizie fornite dalle cronache cinquecentesche. Con una totale consapevolezza dei modi più aggiornati e delle potenzialità espressive della scrittura esposta, l'intimidazione è resa più efficace dal dialetto e trae la sua forza dal carattere autonomo delle parole che non sono subordinate a un'immagine come nel caso Terramano, parole che sembrano pietrificare su una scala monumentale quelle lettere minaccevoli su carta che venivano sparse per le strade della città, facendo emergere il senso della quotidianità aggressiva degli scontri che avvenivano nelle strade e nelle piazze di giovinazzo. Ma girando l'angolo del palazzo i toni si abbassano e troviamo un ulteriore messaggio, questa volta non in dialetto, ma in volgare alto attraverso una raffinata citazione di una tersina dell'inferno della Divina Comedia, disposta forse non a caso su tre righe. Temersi dei sol di quelle cose che hanno potenza di fare altrui male, dell'altre non che non soppaurose. Questa volta la citazione non veniva dalla strada, ma dallo studio di questi colti giuristi che selezionarono accuratamente i versi che erano un ammonimento ad avere paura del pericolo, ma che potevano al contempo essere intesi come la massima aristotelica distigazione e il coraggio di fronte a quelle cose che hanno potenza di fare altrui male. Grazie. Grazie infinita Bianca, un applauso a distanza per questa che non è una semplice carrellata, è una summa di incredibile interesse su una serie di tematiche che devo dire si incrociano molto bene con alcuni dei casi di studio che stiamo affrontando anche noi. Le immagini ad esempio del codice Favagrossa di Benevento sono non solo coeve, ma penso che identiche a altre testimonianze di libri privilegiorum della terraferma Veneta, per non parlare poi di quelle straordinarie architetture di spazi pubblici in cui sotto i campanili ci sono dei luoghi di ritrovo per la comunità, se non che per le elite sociali, un caso praticamente identico a quello del cosiddetto Campanù di Bergamo in Piazza Vecchia, sulle cui scale c'è il museo epigrafico della città che è cinquecentesco, ma sotto il quale si riunisce il populous nel tardo medioevo. Quindi delle corrispondenze che dimostrano, a mio avviso, ancora una volta la necessarietà di un dialogo tra colleghi e colleghe per delineare un quadro molto più ampio di una cultura condivisa in cui non esiste sostanzialmente un concetto di subalternità o di periferia, dal microcentro abruzzese del XV secolo alla grande città dell'Italia settentrionale dello stesso periodo, noi ritroviamo un linguaggio comune che non è di semplice riutilizzo, riuso di pezzi antichi, ma un linguaggio attraverso cui le elite sociali e non solo, anche il popolo, abbiamo visto come il caso del Colosso di Barletta, trovano i confini della propria identità. Questo per dire che quello che tu ci hai detto oggi interessantissimo lo possiamo anche riverberare su altre località. Io ora debbo per forza interrompere la registrazione, dopodiché possiamo passare alle domande in chat per la nostra relatrice che ringraziamo ancora e alla prossima puntata, ma noi continuiamo.